Oggi si conclude la regular season, è stata davvero una cavalcata incredibile, abbiamo giocato 10 partite, ne abbiamo vinte 7, è stato davvero un grande sforzo fisico e mentale, ma da team manager volevo ringraziare il mister, volevo ringraziare le ragazze perché hanno fatto davvero un lavoro incredibile, sono orgoglioso di far parte di questo club e sono orgoglioso di tutte le ragazze che fanno parte dell'ACC Seattle perché venire qui e giocare contro queste squadre che non hanno nulla da invidiare alle nostre squadre della Serie A, anzi forse alcune sono anche più forti, hanno dimostrato che con la grinta, con il carattere, con la tecnica, con la voglia si riesce a fare tutto, abbiamo vinto l'Evergreen Cup, per noi è una coppa che conta molto perché vuol dire che nel nostro Stato a Washington siamo stati più forti, dopo 10 partite in un mese è poco più. Adesso ci aspettano le finali, noi non ci fermeremo perché le ragazze hanno fame, le ragazze davvero meritano tutti i miei complimenti perché sono state veramente grandissime. Lascio la parola al mister. Io sono infinitamente felice per questa prestazione poiché in 5 giorni abbiamo giocato 4 gare vincendone 3 e battendo le 3 squadre che erano pari a noi in classifica, pertanto aver vinto questa Evergreen Cup ed essere la miglior squadra di Washington ed essere così qualificati per la seconda fase rappresenta un sogno che queste ragazze straordinarie hanno reso possibile. Mi complimento con tutte loro ed ora dopo qualche giorno di meritato riposo torneremo sul campo per programmare quelli che sono gli impegni futuri dove dovremo ancora una volta applicarci per riuscire ad esprimere tutte queste qualità che ci hanno trascinata a questo importante risultato. Sono davvero felice. Grazie a tutti.